Alessandria investe sull'Università Amedeo Avogadro, considerata una delle risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio. Comune, provincia e fondazione Cassa di Risparmio hanno rinforzato l'accordo di programma con l'Ateneo, destinando maggiori risorse alla sede cittadina e stanno lavorando per dare radici ancora più solide alla presenza dell'Università nella realtà. L'obiettivo è quello di assicurare attraverso una sinergia tra i soggetti coinvolti nuove e sempre migliori prospettive di crescita, con ricadute ovviamente anche occupazionali, confortati dal numero di iscrizioni e dalla specificità dei corsi. La cronaca, la prima notte che trascorrevano nella nuova casa si è trasformata in un incubo, protagonista della vicenda una famiglia di cittadini indiani residenti a Castelnuovo Scrivia, che è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Tutti, padre, madre e figlia di tre anni, hanno accusato dei malori e hanno avuto la prontezza di riflessi di recarsi subito al pronto soccorso dell'ospedale di Tortona. I medici li hanno sottoposti alle analisi del sangue, poi sono stati ricoverati nella camera iperbarica dell'ospedale di Novara e dimessi con una prognosi di tre giorni. Intanto, su disposizione dell'Asla, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento per cercare di capire la causa dell'intossicazione, accertando che il gas proveniva dalla caldaia del negozio sottostante. E ieri per gli automobilisti tortonesi è stata la prima domenica con circolazione vietata nel centro storico e limitata alle vetture con targa pari nel primo concentrico. L'amministrazione comunale ha disposto il blocco per tutta la giornata facendo posizionare gli appositi cartelli e la polizia municipale ha controllato che venissero rispettate le disposizioni. Non sono state elevate multe e se le condizioni meteo perdurassero non è escluso che lo stop delle auto venga riproposto domenica prossima. Lo sport, il Lumezzane si conferma avversario difficile per l'Alessandria Calcio che nel girone di andata aveva già sconfitto per 1-0. Nella giornata di ritorno ieri allo stadio Moccagatta il risultato è stato invece un pareggio per 1-1. Entrambe le reti sono state siglate nel primo tempo da Ferrari e Scappini. Patron Giorgio Veltroni ha elogiato la prova dei suoi e confermato che la società è attiva sul mercato alla ricerca di un portiere e un difensore. Soddisfatto anche mister Maurizio Sarri. Mi aspettavo grandi difficoltà contro una formazione micidiale nelle ripartenze e ha detto la nostra forza è stata quella di essere bravi a venire fuori dal contraccolpo del gol subito e direi che nel secondo tempo abbiamo dimostrato di reggere il confronto. E così per il momento da Alessandria e provincia è tutto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea torna allo studio.